Buonasera, mi chiamo Mara Paolucci, ho 19 anni ed eseguerò Quidem di Silvia Bianchera, persona che ho avuto la possibilità di conoscere l'anno scorso grazie alla scuola civica Antonia Pozzi di Corsico, che ringrazio. Ringrazio naturalmente anche Maddalena Novati e l'associazione Nomus per questa possibilità. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!